Allora, vediamo se mi ricordo come si fa Allora ragazzi, sono Gabo di Square, per che nel caso nessuno mi conoscesse Mettiamo il modulo 4141 mi è uscito, ok, sono contentissimo di questo modulo, veramente E abbiamo pescato Lewandowski tutti Devo mettere tre polacchi, i tre polacchi che ho scelto sono Berezinski, quindi terzino destro, argentone E in porta mettiamo Szczesny, Szczesny, come si scrive Szczesny? SZ Difensore centrale mettiamo il nostro amatissimo Cordoba Che fa parte della Serie A, che fa Green Link sia con Szczesny che con Berezinski Passiamo a sinistra Difensore centrale a sinistra Upamecano, terzino sinistro Davis Green Link con Upamecano Esterno sinistra andiamo a prendere Sané della UCL Centro campista centrale, iniziamo a mettere la prima icona sopra la valutazione del 92 Io ho scelto Pelé L'ho fatta in live questa rosa qua ragazzi, quindi l'ho fatta con tutti i miei ragazzi, ok? C'è la regola che non si possono cambiare le lettere iniziali, quindi ho scelto Pelé Che dà un po' di supporto alla fisicità di Lewandowski Andiamo a prendere Goretzka come centrocampista difensivo centrale Ero un po' combattuto con Kimmich ma alla fine ho scelto lui E poi ragazzi, altra icona, non posso che non scegliere il fantastico Gullit Che va a compensare un po' aiutare il nostro carissimo Goretzka Come esterno destra invece abbiamo il mitico Gnabry Gnabry, quindi praticamente ragazzi c'ho tutto il Bayern, tutta la forza del Bayern c'ho Abbiamo Gnabry e questa è la mia rosa Valutazione 90, intesa 100 perché manca l'allenatore Questa è la mia rosa, devo aver rispettato tutte le regole Abbiamo un argentone, tre polacchi che è la nazionalità del Totti Quattro del campionato del Totti che sono Lewandowski, Sané, Davis, Upamecano Poi vabbè c'è anche Kimmich e Gnabry, quindi sono praticamente tutti del Bayern Neanche del campionato, tutti le Bayern E poi ci sono tre della Serie A e due icone Questa è la mia rosa, spero che di posizionare almeno non ultimo, speriamo Mi mando un salutone, ciao ragazzi!